Oggi ti farò innamorare del chord melody. Ciao, sono Amu di Safa e con questo video vi porto a conoscere questo stile fantastico. Il chord melody è l'unione di vari fattori che permette a un chitarrista o a qualsiasi strumentista di poter sostenere un brano interamente da soli. Affronteremo i vari passaggi che ci serviranno per portare un brano interamente in chord melody, unendo il ritmo alla melodia. Quindi se vuoi padroneggiare anche tu questo stile e farlo diventare parte fondamentale del tuo linguaggio, ti aspetto al mio corso chord melody su Musicies. Ciao!